Fisciano entra nel vivo della campagna elettorale, prima l'incontro di maggioranza, poi quello del PD, Vincenzo Sessa viene indicato all'unanimità come candidato sindaco. Credo che una scelta saggia che il gruppo dirigente qui al Comune di Fisciano ha messo in campo nel solco della continuità, portando avanti anche una scommessa che è stata fatta da tanti di noi, i cinque anni addietro, quanto abbiamo immaginato anche di cambiare con un avvento generazionale nuovo, fresco, la squadra di governo al Comune di Fisciano, con un progetto che affonda le radici in quanto era stato fatto in precedenza e che ovviamente è stato valorizzato e soprattutto sostanziato, tanta energia che i giovani e i componenti della nuova amministrazione comunale guidata da Vincenzo Sessa hanno messo in campo. Quindi un impegno a favore della comunità, un impegno inclusivo che ha affrontato la sfida dedicata anche dell'emergenza sanitaria sul territorio, credo con successo, dando risposte soddisfacenti alla comunità che deve essere accompagnata e che merita la riproposizione alla guida della città, immaginando anche ad un recupero col mondo accademico che da troppo tempo assente fisicamente sul territorio, perché, l'ho detto tante volte, l'ente locale è un po' il motore dello sviluppo di una comunità e credo che Vincenzo Sessa con la sua squadra siano stati bravi ad interpretare questo ruolo nel modo migliore. La campagna elettorale è fatta ovviamente di voci, qualcuno gioca a dividere, c'è chi nei giorni passati ha detto, beh no, guardate che è amabile, probabilmente prendo un'altra strada, credo che le parole siano chiare. Io l'ho detto il giorno dopo il risultato delle regionali, credo, qualche volta l'ho ricordato anche agli organi dirigenti del mio partito, qui a Fisciano abbiamo dato vita al Partito Democratico prima che nascesse quello nazionale, radicinato e portato avanti da Walter Beltroni, qui abbiamo messo in campo un'esperienza di guida e di gestione della cosa pubblica tra la Margherita, a suo tempo i democratici di sinistra, incrociando per la prima volta il consenso plebiscitario della comunità e così si è andata avanti negli anni. Ovviamente a livello locale viene fatta una scelta di civicità per mantenere sensibilità che non si riconoscono pienamente all'interno della linea di un partito, ma il Partito Democratico è interamente a sossegno della squadra di governo della nostra comunità e quindi anche io da militante, l'ho dichiarato il giorno dopo, sarò dalla stessa parte a sostenere chi regittimamente e chiede una riconferma per continuare a fare il bene della propria comunità.